ragazzo fallo spostare d'arli ueberi cocco asco vai mettila lì dove c'è il mio collega minca attore ma la smetti di schiacciarti i brufoli che c'è un casino vai ciuccia minca siamo all'antipasto veramente si dice siamo alla frutta mia mamma ha scoglio no è un detto asco vedete non fare molto lo scemo e asco poco la ragazzo se spendi e asco non ho capretto cosa no vabbè dicevo è custodito il parcheggio e vai tranquillo frari ah ok no era solo per saperlo grazie ragazzo grazie una piccola offerta frari dammi 35 siamo a posto 35 mi faccia la fattura asco la frattura te la faccio in testa se non la smetti ma lei ha almeno l'autorizzazione dal comune io la c'ho il foglio no ma guardi che è questa ma da peccato ma vuotorizzazione ma da peccato ragazzo grazie a tutti